amici di fulvio e le sue ricette benvenuti oggi siamo nel cuore di napoli e precisamente in via dei tribunali dove passeggiando per questa strada del centro storico molto molto affollata si respira l'area della pizza tradizionale verace napoletana perché perché sono presenti le principali storiche pizzerie napoletane oggi nello specifico siamo stato a la pizzeria i decumani l'unica sede la trovate lì in via dei tribunali a uno spazio a piano terra ma anche una saletta interna al primo piano dove si accede da queste scale e dove potete ammirare il panorama di via dei tribunali da questo balconcino l'arredamento è semplice in linea con le pizzerie storiche come potete vedere mia moglie entusiasta di questa giornata in pizzeria ma come non si può essere entusiasti di andare in pizzeria questa è la loro pizza di punta i decumani davvero interessante e poi troviamo un bel menù tra ripieni pizze tradizionali e pizze creative ma partiamo dalle fritture che mi hanno entusiasmato particolarmente crocchè frittatine di pasta ma anche un po di patatine tradizionali partiamo dal crocchè buono gustoso saporito il classico crocchè napoletano con la provola filante al centro e il pepe che si sente al punto giusto e poi la frittatina davvero croccante esternamente cremosa e filante come potete vedere all'interno molto molto buona mi è piaciuto davvero tanto ho apprezzato la frittatina e poi arriva la pizza la classica rota di carretto con un cornicione un po pronunciato tanta buona mozzarella filante questo cornicione leggermente croccante davvero particolare mi è piaciuto pizza asciutta quindi non non diciamo così gommosa si scioglieva in bocca guardate davvero buona anche gli ingredienti il pomodoro la mozzarella abbondante e filante e il bocconcino centrale davvero eccezionale adesso passiamo al classico ripieno napoletano con ricotta pomodoro provola cicoli e pepe vedete quanto ripieno davvero molto molto ricca frittura asciutta e dorata al punto giusto ottimo l'ho apprezzato tanta buona provola filante all'interno guardate facevo pure difficoltà toglia davvero buona che dire la pizzeria dei decumani è qualcosa di davvero eccellente qualcosa di classico tradizionale per chi cerca un posto dove gustare la pizza storica napoletana senza aspettare tanto infatti non ho aspettato molto per accomodarmi sono abbastanza veloci nel servizio e quindi godetevi questa esperienza se passate da napoli e andate nel cuore di napoli in via dei tribunali